E' stato ritrovato, stanco, disidratato, provato da un'esperienza sfiancante ma vivo, Giuseppe Fasanaro, il 76enne di Montegrotto Terme, di cui non si avevano notizie da mercoledì scorso. Lo hanno cercato anche nei boschi il soccorso alpino di Padova, con una decina di volontari, compresi medico e due infermieri, i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. Giuseppe Fasanaro era invece caduto con le chiavi di casa in una bocca di lupo di piazzetta per Lasca, a tre metri di profondità, vicino a dove abita, a lanciare l'allarme dei passanti che hanno allertato i carabinieri. Fasanaro è stato subito trasportato in ospedale per le cure del caso.